Siamo qui nel San Pablo di Oaxaca con la Trampa dei Monte Aperti, 1260. Nel 1837-1838 cominciò ad affascare dei libri e di un mondo che comprova questa idea di una vita sociale, che cosa significa la vita sociale, perché stiamo insieme, qual è il senso di una città, qual è il conflitto della politica. Questi sono le domande a voi che rispondono gli apprezzi che avranno giù l'Orengetti, ma per capire bene le allegorie che potremmo, dico due cose sulla storia di Siena che ci saranno tutti. La storia di Siena rimane per tutti i secoli quel lavoro di un piccolo villaggio, ma il destino della città cambiò quando in Italia scelte la Lugovana. La storia di Siena è una storia di Toscana, ma la crescita di Siena avviene contemporanea alla crescita dell'altra aria raroscita toscana che poi mille conosce la grande responsabilità di Terenze. e trattiene il Piretti e comincia un scontro che per i libri di storia inizia con la conquista che ho venduto insieme nel 1857. Infatti, che cosa succede? Nel 1360 c'è una grande bandagna alle porte di Siena. C'è arrivata una cronaca che racconta la vigilia di quell'evento. Il governo della città doveva prendere una decisione circa sette. Dovevano decidere, siccome le indizie fiorentine erano decisamente maggiori di quelle sedizie, che cosa fare? Se accettare la condizione di fiorentine condannato alla morte civile della città per salvare la pelle, o rischiare una battaglia dall'estate del Piretti in fase. La cronaca racconta che i governanti di Siena si riunirono in una chiesetta, c'era ancora il palazzo pubblico, la chiesetta di San Cristoforo, e per rispondere, prendere questa decisione per rispondere. Per rispondere, prendere questa decisione per rispondere. Per rispondere, il governo della città di Siena leghava e fregava perché i governanti partessero la decisione giustata. Alla fine, il governo della città di Siena era presa, l'annunciò una guida locale, che era stato eletto capo della città per la battaglia del Piretti. Per rispondere, il governo della città di Siena leghava e fregava e fregava e fregava e fregava e fregava e fregava e fregava. La città di Siena leghava via il giovane. Una fine tribunale. Non serve di sostenere l'unità come trabalh 연chi. E anche l'anno, iniziaturăm o dalferenze di Siena e caponacalitari, la città di Siena leghavitata della città di Siena e corJump, un paese di Siena, tra bamb 설명ale. Il Paese segnale questo momento per l'inizio di quale la prossima che era conosciuto per lo che aveva fatto la vita che aveva fatto l'ultima esattamente di contattamento. E' un'ultima importante del governo, ci troviamo di nuovo. Il governo dei nove, nove magistri che venivano già perse per due mesi, e adottavano avere una propria notata. eppure ormai in questo periodo viene a conoscere un po' meno di un'opportunità politica. Questo governo del governo decide di solo eliminare i cittadini di Caterno, quindi è un grande operativo di Caterno, ma anche la seconda opera di Caterno e la seconda opera di Caterno, che si bella a compiglia il Nove Spicoli, che ricorda il governo dei nove che fece realizzare la politica del campo. A chiudere il piatto del campo, come la delissima vita, viene per la funzione La trappola di Montiaperti, non la battaglia, la conquista della Chiesa di Siena. Siena avrà battuto i fiorentini, però gli viene impuesta la moneta d'oro della Chiesa. Mi sembra abbastanza chiaro, proprio per dare chiarezza, questa è la favola del buon governo di Ambrogio Lorenzetti, nel 1937-38, e invece dei buoni e affetti consideriamo che il governo ha in mano la Virgen della Virgen, ossia non invento la moneta d'Esena, la città della Vergine. Quindi non c'è dubbio, altro che conquista dei senesi sui fiorentini, è il dominio della Chiesa, che chiaramente, lo ha detto, credere ai propri occhi, lo so, è difficile, però arriva il momento in cui dobbiamo aprire gli occhi. Questi effetti del buon governo, sono gli effetti del malo, sono gli effetti dell'usura, questa è l'usura. e questa è la mitica Siena, dove poi ho vissuto, 14 anni, in varie case, qua, là, laggiù, con Pino, vabbò, i cormaggi, storia lunga, Dioscia, ve la potrebbe raccontare. Ok Aspetta che, qui c'è il gruppo di persone, laggiù c'è, non si vede.